abbo ragazzi siamo arrivati all'orario all'orario e direi di uscire dalla porta di casa se esce perché se è crashato il server non usciremo mai proviamolo in diretta scopriamolo farà questo caricamento lo farà l'ha fatto attenzione attenzione è un passo avanti siamo la scelta del nostro starter c'è il tipo cristallo cristallo crystal 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 è un tentemma di tipo cristallo e forte contro elettricità e mentale ma debole contro fuoco e terra e contro elementi in augusto non voglio questo tentemma voglio un attimo capire cosa c'è smazzì è un tentemma di tipo fisico è forte contro terra e cristallo ma debole contro il mentale ok mentre questo è il mentale commetto o chic e tentemma di tipo mentale forte contro neutrale e fisico ma debole contro cristallo io scelgo il mentale quello più carino quello che mi ispira di più usciamo da casa oggi che sembra funzionare tutto oggi che sembra funzionare tutto a mente possiamo farci un po' di dieuzza ok non funziona più si è appena bloccato porco miserio porco miserio e porco di tanto oggi siamo qui in rilassatezza non pensiamo a niente per due ghiacchi vorrei giocare a pokemon nel frattempo però ci ho occupato il monitor si giochi a pokemon mentre giochi a tentem via al io sto shiny inta sto sto shiny intando shiny intando ok sei ripreso sei ripreso possiamo vedere la battaglia da cresciata di nuovo experience experience veramente 404 error che fa un po lo faccio nel mio cervello e tira una bestemmia che mi sento lo sviluppatore in america mi ha fatto cliccar play zitto zitto lo chiamo a nando veramente aspetta lo chiamo nando damme la mano damme la mano vediamo se nando mi dà una mano an vedi come crash a nando an vedi come crash a nando è proprio la fine del mondo serve solo inaccessibili al momento ok l'autore ha detto alcuni potrebbero andare in conto ad un reset del personaggio dopo questo riavvio spam nuova partita non me di eh questa volta non me trattengo io ve lo dico dattenetevi se siete con le casse staccate cioè con le cuffie staccate mutate oppure allontanatevi da possibili genitori sarà quel naso te lo giuro aspetta aspetta si è ripreso si è ripreso eh allora prendiamo chi sto qua ragazzi se se sblocca e se se blocca di nuovo oddio se sta a bloccà 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 eh si possiamo fare sta prima battaglia se blocca qua ma perché se blocca guarda ah le orecchie il nome del signore il tuo dolore è la nostra gioia il teo soffri sguattere il tuo dolore mi da forza la strada ooo che strada che voglio ooo ma ronu guarda Metti, vedi come balla Nando come canzone Vai, fatta Vedi come balla Nando Vedi come balla Ludo Il Natale è tutto tace Vedi come balla Nando Vabbè Guarda che ti sto guardando, eh Ti vedo che già stai facendo, eh Ok, sei preso, sei ripreso Attenzione Quanti colpi di scena oggi Colpi di scena Altro che Naruto contro Sasuke Altro che Possiamo fare questa prima battaglia Non ho mai provato ste cazza Ambrola de battaglie, ho l'idea di come sono ste battaglie Attenzione Eh porco Però te blocca sempre qua E poi blocca sempre qua E perché se blocca qua? Ma non poi Ma è contro le leggi della natura Mica è vero È la natura umana immagino È contro, per forza Non può succedere sempre allo stesso punto Cioè c'è qualcosa qui Che c'è la contro di me Perché io sto guardando Twitch Che gli altri stanno giocando Ma non faccio vedere il commento Ce l'ha contro di me Ce l'ha contro di me Ce l'hai con me Ah ma io ti conosco Ah ma io ti conosco E se blocca Ma perché? Ma volevo adesso Se blocca pure lui Se se muove Chiedo perdono Scusa Scusi Guarda Guarda che io so fermo Se a lui funziona Io disinstallo il gioco in diretta Scrivo allo sviluppatore in diretta Gli scrivo Ma ce l'hai nei confronti di The Player 96? Perché a me non sta bene Ti vuoi prendere una bici? Una pizza Ah la pizza Aggiuvata pizza Pumarola Coppa pizza E niente più Attenzione l'output è sospeso Forse ci stanno tracciando Ci stanno tracciando Stacca 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 Ci stanno tracciando Stacca 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 No niente se blocca Non c'è verso Eccolo eccolo Se deve blocca Per forza Perché se no Perché se no è un problema mio Se blocca Non si è bloccato Perché a me se blocca Che ho fatto De male Che ho fatto De male Guarda è qui È qui Davanti Sto camminando Jack Sto camminando Jack cammino Ah il colo Hai rotto il gioco Eh si è rotto proprio però Che è mo' sto punto esclamativo E non fa niente Cioè hai rotto il gioco Noi non ci credo Non ho parole Che cosa Che cosa è successo Cosa stai vedendo E questo è il punto in cui si blocca Ciao Fabio Oh zio Adesso avanti Oddio Gesù Attenzione Ce l'ho fatta Lei è emozionante dei mondiali del 2006 E? Volevi? Ce l'ho fatto Fabio Ce l'ho fatta No è cresciato E serve Ma no Ti serve Dai E' finita Allora ragazzi abbiamo Per lo capi Per lo Per lo Diventato cinese Abbiamo capito Come risolvere questo problema Del bloccaggio E tecnicamente Ora va E' partita E' partita Potrebbe essere La volta buona Che possiamo provare Oddio sono in battaglia Non ci credo Che sia vero Buona dai Dopo cinquanta minuti Ce l'hai fatta Io mi taglio il pene Che devo fa' Ed è crashato L'avevo capito Che era crashato Sai L'avevo capito Oddio vediamo la gente Mi sto eccitando ragazzi Savanna I'm coming on Savanna Will ever be in love Savanna My beauty of love Savanna L'avevo capito Let's all take it My beauty of love